Sei stata con più di tre ragazzi in vita tua? No. Falso. E allora non so chi è il quarto, giuro. Da quel che so anch'io. Eh, cioè, no. O sta mentendo a te? Allora, il concetto è che ti ho chiesto se hai mai stata, ed è un senso, sembra ovviamente, cioè, sembrare a letto, però se hai mai stata magari è anche aver avuto qualcosa, magari è anche solo delle robe con qualcuno. Ve la dico così, almeno siamo più sinceri possibili. Ho baciato sei ragazzi nella mia vita e sono stata con tre. Fine. Due fidanzati, una frequentazione seria e quelle di tre che ho baciato ero piccolo.